Ciao amici e Revotech a tutti! Oggi vi parliamo di un nuovo store col quale abbiamo iniziato a collaborare uno store che ci ha mandato un prodottino da recensire questa tastierina K620 che vedremo subito dopo questa brevissima presentazione intanto vi facciamo vedere lo store che si chiama BZ Future quindi è proiettata verso il futuro abbiamo visto che ci sono dei prodotti molto interessanti con degli ottimi prezzi ma soprattutto un coupon dedicato Revotech i prezzi già di per sé sono veramente bassi come potete vedere ci sono tutte le varie categorie e i vari marchi che tratta questo store che è molto interessante che non conoscevo e come detto ci è stato affidato un coupon personalizzato ed esclusivo per Revotech che è REV15 ma lo metteremo in descrizione che vi dà sugli articoli promozionati o comunque sugli articoli che metteremo in descrizione il 15% di sconto direttamente alla cassa ci sono tanti tipi di pagamento possibili è uno store che vende soprattutto accessori, mouse, tastiere come potete vedere anche poltrone d'ufficio piuttosto che andiamo a vedere insieme le categorie ecco ci sono diverse categorie le Edifier che è un marchio audio molto importante poi ci sono giocattoli, macchine telecomandate ma soprattutto tanti prodotti da ufficio e da gaming noi oggi tratteremo questa tastierina della E-Yoso esattamente la K620 una tastiera da ufficio ma anche da gaming noi abbiamo la versione nera la K620 USB che viene proposta a un prezzo di €37,99 in sconto anziché €49,99 più il nostro coupon che vi darà ben il 15% ulteriore di sconto è una tastiera meccanica da ufficio ma anche da gaming e ve la presentiamo ma non dimentichiamoci di ringraziare Cerotec.it il blog di tecnologia più figo che ci sia andate a visitarci e a leggere le nostre recensioni scritte grazie anche a BZ Future per averci inviato questo prodotto ecco qua la tastierina che ci è stata mandata da questo store BZ Future una tastierina compatta K620 meccanica dotata di 87 tasti con tecnologia anti-ghosting ma prima la apriamo e poi la andiamo a vedere nei dettagli ovviamente è una tastiera cablata non è senza fili ma è retroilluminata e dovrebbe essere anche RGB con le varie funzioni e le varie combinazioni di tasti per abilitare tutte le funzionalità abbinate all'utilizzo e ce ne sono veramente tante qua abbiamo il cinese, qua abbiamo l'inglese molto bene guardiamo un po' come è fatta, come i materiali la risposta è molto rapida anche se non è completamente silenziosa tutto in policarbonato, tutto in plastica rigida sotto abbiamo i piedini per poterla alzare qui abbiamo delle griglie che presumibilmente si andranno a illuminare destra e a sinistra e qui dei piedini anti scivolo andiamo a vederla appoggiata ecco così sicuramente è più facile da usare perché è leggermente inclinata verso di voi io la terrei in questo modo c'è chi preferisce tenerla completamente stesa e va benissimo anche così molto semplice, molto minimal come design vedete che non è particolarmente elaborata con questo nero opaco e i tastini che si possono comunque anche sostituire e cambiare qui abbiamo la presa usb e un cavo abbastanza lungo sarà almeno un metro e mezzo ne andiamo a collegare e ci vediamo subito dopo ecco premendo il tasto fine e il tasto 1 si vanno ad abilitare i tasti da gaming e le frecce quindi i tasti asd w si illuminano, il tasto esc e i tasti freccia questo perché al buio avete la possibilità di evidenziarli e vederli meglio in questo modo possiamo vedere i tasti evidenziati retroilluminati eccoli qua che hanno una bella risposta devo dire adesso andiamo a vedere le altre combinazioni fine più 2 vedete? poi c'è fine più 3 e vi abilita altri tasti fine più 4 fine più 5 fine più 6 fine più 7 poi ci sono tutti i vari tasti rapidi sempre abbinati al tasto fine che vi permettono di aprire la calcolatrice il pannello di controllo piuttosto che il player musicale poi qua c'è il volume qua vedete che ci sono le varie impostazioni di movimento fine più ins vedete come sono forti le così invece è fissa così invece respiro così spenta io in questo momento la terrò fissa è una tastiera che non ha la possibilità di cambiare colore i tasti sono retroilluminati ma sono retroilluminati di azzurro e non ci sono altri colori è limitata a questo colore poco male comunque l'importante è che i tasti si vedano bene questa è la cosa fondamentale ditemi se poi non avete visto bene e farò mea culpa per il prossimo video studierò un sistema di luci differente anche perché quando c'è una retroilluminazione è difficile gestire bene le luci ci sono poi tantissime altre combinazioni combinazioni come potete vedere sul vostro libretto per altri comandi rapidi allora questa tastiera come è detto il tasto fine più ins per modificare il tipo di luce e di grafica sono otto le modalità di retroilluminazione in più ci sono le modalità di gioco specifiche e combinate con il tasto fine e i tasti fino a otto appunto poi c'è la luminosità e la velocità di retroilluminazione regolabile tasto fine più i quattro tasti freccia così a 0 1, 2, 3, 4, 5 5 modalità di luminosità da 0 a 5 poi c'è l'illuminazione laterale RGB ci sono quattro modalità fra cui scegliere c'è fine più pausa quindi fine più pausa che va a illuminare vedete la griglia che sta qui di fianco ecco andiamo a metterla in questo modo sperando che si riesca a vedere in questo modo vedete che cambia colore cambia colore da solo ed è RGB la parte laterale mentre invece i tasti non lo sono adesso non si vede bene ma è rossa e in questo momento è verde andiamo a vedere le altre combinazioni possibili sempre tasto fine più pausa il colore e la velocità possono essere regolati con più e meno sempre abbinati al tasto fine qui abbiamo un'altra modalità ancora che cambia colore più velocemente qui invece la luce rimane fissa vediamo l'ultima modalità così invece è multicolor quella che io preferisco onestamente i copritasti hanno una stampa diversa dal solito notiamo che hanno dei caratteri ben visibili e ben stampati appositamente in modo molto comprensibile e anche ingranditi rispetto al solito perciò anche per chi ci vede poco o ci vede meno rispetto al normale non avrà difficoltà a identificare le lettere anche se chi va a digitare di solito sa già dove sono nel mio caso ogni tanto una sbirciatina la devo dare resistono anche al sudore e a schizzi d'acqua lo strato superiore smerigliato evita che i caratteri vengano graffiati o consumati e non lascia impronte digitali o ditate varie la qualità costruttiva è in materiale ABS di qualità i piedini posteriori li abbiamo visti regolabili antiscivolo in effetti io sto cercando di spingerla ed è ben piantata sulla mia scrivania guardate che al massimo riesco a spostarla lentamente ma l'effetto antiscivolo è davvero garantito la risposta è sicuramente molto importante in una tastiera di questo tipo i tasti abbiamo detto sono 87 con 12 tasti multimediali qua in alto e con tecnologia anti ghosting che dà la possibilità di funzionare con più tasti contemporaneamente ogni pressione fatta è immediata anche se voi cliccate non fino in fondo al tasto lui prenderà comunque la digitazione perché a metà corsa lui fa lo scattino non è come la classica tastiera meccanica che dovete schiacciare pesantemente fino in fondo qui vi basterà stare molto leggeri con le dita e con le mani perché abbiamo un sistema a molla che gli permette di percepire il click anche a metà corsa quindi questo è sicuramente un grande plus vi permetterà di scrivere per lunghe sessioni senza stancare il polpastrello la mano l'articolazione e quant'altro in più abbiamo le modalità gaming differenti che potete usare su qualsiasi gioco e con qualsiasi impostazione con già tutti i tasti predefiniti come abbiamo visto all'inizio non c'è il tastierino numerico però per una tastiera compatta di questo tipo è assolutamente normale in più questa tastiera è stata studiata per sopportare fino a 50 milioni di battitura e in più ogni singolo tasto può essere sostituito con una pinzetta che non è in dotazione ma richiedendo il pezzo di ricambio sullo store vi potranno mandare il tasto sostitutivo e la pinzetta con il kit potete sostituire il prodotto entro 7 giorni senza nessun motivo un anno di garanzia su questi prodotti 12 mesi se dovete sostituirlo invece perché ha dei problemi 15 giorni senza neanche dover documentare nulla bene detto questo abbiamo visto come è fatta questa tastierina abbiamo visto questo store e vi invitiamo ad andare a visionarlo e a guardarlo perché metteremo il link di questo prodotto e di tanti altri prodotti della lista che ci è stata fornita con il nostro coupon specifico che è REV15 ma lo scriveremo sotto in descrizione che vi darà il 15% su ogni link e su ogni acquisto che farete su questo store salutiamo gli amici malati di smartphone, di smartwatch, di domotica su Telegram venite anche a visitarci sul nostro gruppo Telegram REVOTEC GROUP siete tutti benvenuti continuate a seguirci likeate a bestia andate a visitare questo store leggete i link in descrizione commentate e soprattutto iscrivetevi al canale e condividete i contenuti ma ricordatevi anche di attivare la campanella delle notifiche e di venire sul blog ceotech.it il blog di tecnologia più figo che ci sia a leggere le nostre recezioni scritte detto questo ci vediamo prestissimo per tanti altri contenuti un saluto da Pasqui e REVOTEC a tutti ciao iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti